Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questa nuova recensione siamo entrati in contatto con una nuova software house, la United Plugin, che propone da qualche tempo plugin abbastanza particolari. È una federazione indipendente di sviluppatori dell'est Europa, alcuni dei quali provenienti dalla MELDA. Sono plugin dedicati principalmente a chi fa musica elettronica, ma come è accaduto anche con beat skills, ho iniziato ad apprezzarli anche in altri ambiti musicali. Firemaster, di cui ci occuperemo oggi, è un plugin di nuova concezione dedicato all'enfatizzazione del sound generale sul master. È pensato quindi per dare quel magic touch ai nostri mix, che spesso cerchiamo e ricerchiamo a fine lavoro. Non è un compressore, non è un limiter, ma agisce grosso modo come Saturn di fanfilter, solo che raccoglie il suo punto di forza proprio nell'interfaccia, nella gestione quindi intuitiva dei parametri che vedremo. È come se fosse un riassunto dei vari plugin di distorsione armonica che siamo stati abituati a utilizzare finora. Non sono un amante dei plugin tuttofare, ma spesso proprio questi plugin dedicati al frullatutto sono principalmente utili in alcune applicazioni e o su alcuni canali del mix. Chi segue il mio canale sa quanto io ami colorare i suoni con i vari plugin, i pre-virtuali, distorsori e rancers eccetera eccetera. Purtroppo manca un manuale, quindi cercherò di capire cosa effettivamente fa utilizzandolo. L'interfaccia è semplice, l'input a sinistra e l'output a destra, il controllo di mix al centro. I parametri di lavoro sono sempre al centro, posti sotto e si suddividono in bass, def, air, color. Niente altro. Non usiamo i preset e vediamo come funziona. Azzeriamo tutti i parametri, creiamo quindi una situazione di bypass, andiamo in play. Bass incrementa le frequenze basse, come è facile intuire, ma altera anche l'equilibrio del mid-side. Spostando la parte più bassa verso i 70 Hz sul side e lasciando inalterato la parte superiore vicino ai 100. Ascoltiamo infatti cassa e passo il rapporto. Air è un high shelf, non troppo ampio, che modifica un po' la percezione anche dei medi. Facciamo gas a rullante. Occhio quindi a dosarlo, è un po' pericoloso. Def controlla il rapporto mid-side, quindi schiaccia leggermente il mid. Quando lo mettiamo tutto su web è più evidente. Ecco, mentre color aumenta la distorsione armonica. Ascoltiamo bene i medi. rullante soprattutto. e restituirà e all Beni Empatizziamo un po' i passi, senza, con, con, e un'altra sezione. E un'altra sezione. E' sicuramente una soluzione fast, dedicata a chi ha bisogno di correzioni rapide nel mastering. Lo abbiamo ascoltato su una traccia pop che sto lavorando in questi giorni. Fire Master è un frullatutto per mastering secondo me interessante, facilissimo da usare, è in grado di creare veramente quel magic touch dove altri hanno fallito, o che richieda l'uso di diversi plugin per essere attuato. Imparare a conoscere i parametri è fondamentale perché i preset non si prestano a tutti i tipi di applicazioni o tracce. La combinazione con il pulsante color e base regala un effetto di emulazione nastro interessante. Non ho trovato entusiasmante il controllo sugli alti, quindi il air, ma probabilmente non si adatta al genere che sto lavorando in questo momento. Scaricate la demo, provatelo sui vostri master. In questi giorni è in offerta, approfittatene se vi piace. Per il momento è tutto, ciao a presto.